Ciao ragazzi, come abbiamo visto nel video precedente, l'area di un triangolo la troviamo usando la formula base per altezza fratto 2. Tenendo bene a mente questa formula andiamo a vedere come applicarla in un triangolo rettangolo. Prendiamo il nostro triangolo rettangolo che ha come vertici A, B e C. Dobbiamo notare una particolarità. Sappiamo che l'altezza in un triangolo è sempre perpendicolare alla base. Nel triangolo rettangolo ci capita di avere il lato BA che è perfettamente perpendicolare al lato AC. Quindi il lato BA non soltanto è un lato del triangolo, ma corrisponde anche all'altezza. Quindi per trovare l'area invece di scrivere base per altezza fratto 2 posso scrivere AC per AB fratto 2. In effetti cosa ho fatto? Lato per lato fratto 2. Andiamo a vedere come si chiamano i lati di un triangolo rettangolo. I due lati perpendicolari di un triangolo rettangolo, cioè quelli che tra loro formano un angolo retto, si chiamano cateti. Quindi avremo un cateto maggiore, nel caso in cui la lunghezza di AC sia superiore alla lunghezza di AB, e un cateto minore. Quindi la formula dell'area è possibile riscriverla come cateto maggiore per cateto minore fratto 2. Proviamo ad esaminare un altro caso. Il caso, ad esempio, in cui il nostro triangolo rettangolo non sia scaleno ma isoscele, quindi che abbia i due cateti, ovvero i lati perpendicolari tra loro, perfettamente uguali. In questo caso il cateto AC sarà esattamente uguale al cateto AB. Quindi dire cateto maggiore per cateto minore non ha più senso perché entrambi i cateti sono uguali. Quindi se AC è uguale ad AB, dire AC per AB significa dire cateto al quadrato fratto 2. E questo è un altro modo per calcolare l'area del triangolo rettangolo quando però il triangolo rettangolo è isoscele. Ricordatevi che in un problema per capire se il triangolo rettangolo è isoscele, a meno che non vi venga detto espressamente, vi verrà detto o che i due cateti sono uguali tra loro o che gli angoli alla base di un triangolo rettangolo misurano esattamente 45 gradi l'uno. Di fronte a uno di questi elementi che vi indica che ABC sia un triangolo rettangolo isoscele, la formula che possiamo utilizzare è cateto per cateto fratto 2 che nel nostro caso abbiamo detto diventa cateto al quadrato fratto 2. Abbiamo detto che i due lati perpendicolari tra loro si chiamano cateto e cateto maggiore o minore se il triangolo è scaleno, uguali tra di loro se il triangolo è isoscele, mentre il lato obliquo BC non abbiamo ancora detto che si chiama ipotenusa. Ora questo nome ipotenusa lo troviamo spesso soprattutto quando si parla di altezza relativa all'ipotenusa oppure quando si parla dei teoremi di Pitagora e dei teoremi di Euclide che tra un po' andremo a vedere con degli altri video. Vediamo cosa vuol dire altezza relativa all'ipotenusa. Proviamo in effetti a fare il tipo di lavoro. Giriamo il nostro triangolo facendo in modo che la base BC sia schiacciata sul pavimento, quindi costruiamo un triangolo che ha un angolo retto che presenta il lato obliquo schiacciato a terra. Avevamo detto prima che il nostro angolo retto era A, questo era B e quest'altro era C. Capovolgendolo il nostro angolo retto resta qui e abbiamo come base l'ipotenusa BC. L'area quindi la possiamo calcolare come ipotenusa per AH dove AH è la perpendicolare condotta dal vertice A che è il vertice dell'angolo retto fino all'ipotenusa CB. Quindi CB per AH fratto 2 e anche in questo modo possiamo ottenere l'area del triangolo perché come abbiamo visto nel video precedente in un triangolo è sempre possibile calcolare l'area partendo da una base qualunque moltiplicandola per l'altezza relativa alla base. quando parliamo dei cateti essendo perpendicolari tra loro ogni cateto fa anche da altezza rispetto all'altro cateto mentre quando parliamo dell'ipotenusa l'ipotenusa ha un'altezza sua propria che parte dal vertice A e arriva fino al lato CB ovvero la nostra ipotenusa. Per calcolare l'area in un triangolo rettangolo dobbiamo disporre quindi o dei dati del cateto maggiore e del cateto minore e poi facciamo fratto 2 oppure dobbiamo sapere l'ipotenusa moltiplicata per l'altezza relativa ad essa fratto 2. Noteremo che comunque svolgiamo i calcoli il risultato sarà esattamente lo stesso quindi non è un errore calcolare l'area in questo modo piuttosto che in quest'altro otterremo sempre lo stesso risultato. Sull'altezza relativa all'ipotenusa ci torneremo a parlare spesso nel parlare dei teoremi di Euclide o comunque quando parleremo dei problemi con le formule inverse in cui viene proprio richiesta la lunghezza dell'altezza relativa all'ipotenusa. Quindi ragazzi continuate a seguirci a breve altri video e un po' alla volta riusciremo a mettere insieme tutti i concetti di geometria. Alla prossima ragazzi ciao!